salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video come avete letto dal titolo della copertina ho volato in zona rossa ma non zona rossa come tutti voi avrete pensato in una zona dove non si può volare dove vietato volare no una zona rossa perché questa zona si chiama preda rossa che in italiano sarebbe pietra rossa perché tutte le montagne circostanti da questa parte hanno un colore rossastro e questo grazie ad un fenomeno geologico che ha fatto sì che queste rocci diventassero di questo colore ovviamente il risultato massimo sia al tramonto quando veramente diventano molto rosse però già così secondo me hanno un qualcosa di affascinante e poi c'è tutta questa pianura sottostante a queste montagne incredibili che sono attraversate come un serpente dal fiume Duino quindi veramente una location pazzesca e poi alle mie spalle abbiamo le montagne quelle alte quelle con il ghiacciaio e sono anche quelle una meraviglia allucinante e tutto questo ben di dio lo troviamo in Valtellina siamo a 1950 metri circa ovviamente poi si può salire fino ad un rifugio che a 2.500 metri però quello che mi interessa a me è questa parte di montagne rosse da riprendere con il drone quindi detto tutto questo direi di non perdere altro tempo e iniziamo questa avventura qui a preda rossa decolliamo come in back for your heart now E là abbiamo il Monte Disgrazia con i suoi 3680 metri, è un ghiacciaio infatti si vede benissimo tutta la parte bianca che lo ricopre. C'è un ghiacciaio infatti, è un ghiacciaio infatti, è un ghiacciaio infatti. Bello. 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 Forreverò. Bello. Adesso vorrei. Ragazzi con i suoiVER. a 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